Vice sindaco, in una settimana siete riusciti a risolvere almeno momentaneamente il problema dell'AMU che è di nuovo in aus? Sì, devo dire con grande soddisfazione l'amministrazione tutta si è messa al lavoro perché ci tenevamo a mantenere questa società almeno momentaneamente perché tutti sappiamo che c'è la delibera regionale che prevede la gara per la provincia di Benevento e Avellino insieme quindi non è una cosa che durerà nel tempo, però momentaneamente abbiamo risolto, abbiamo risolto contro il parere dell'Astra contro il parere del tecnico che ci avevano tutti detto in base alla legge Madia che la società non era e non poteva essere in aus invece in una settimana siamo riusciti a mandare una lettera alla regione Campania, ad andare dai funzionari della regione Campania accompagnati dall'assessore e abbiamo ottenuto una risposta dalla regione che ci autorizzava non noi ma la provincia a fare questo passaggio oggi abbiamo anche ricevuto la determina da parte della provincia che ci autorizzava a fare questo come dire in house perché anche i fondi della regione arrivano direttamente al comune e quindi supera l'80% e la società rimane in house grazie a tutti